Visto tre, nel senso di tre minuti per parlare d'Europa, come si fa? Ci proviamo, ma perché parliamo d'Europa? Perché ormai siamo vicini, 24-25 di maggio, consultazioni europee. Di questo parliamo con Maria Cristina Sandrin, fondatrice e leader di Donne per l'Italia, che poi è Donne e Uomini per l'Italia, in questo caso però si va oltre confine, mi perdoni, anzi perdonami, perché io voglio con te parlare in brevissimo tempo di queste consultazioni europee, in particolare sai di cosa? Dell'Euro, c'è chi dice no e sono sempre di più, c'è chi dice tocca tenerlo quest'Euro, secondo te? Allora l'Euro non è stata una brutta cosa, è stato gestito male e le conseguenze si vedono e quali sono? Purtroppo ha aumentato la disoccupazione, ha aumentato la povertà, perché già il fatto del cambio, un Euro e due mila lire, cosa che non è avvenuto per la Germania ed è motivo per cui adesso lei ha questa forza, abbiamo accettato, è stato gestito male, mi limito a dire questo, non voglio entrare a fare polemiche politiche, mancanza di controlli iniziali eccetera, ma ad oggi Maria Cristina? Ad oggi o si effettua una rettifica per cui questo fixed compact, questo 3% dovrebbe proprio essere… Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Allora tu non ti puoi indebitare oltre il 3% del tuo PIL e ovviamente se questo accade, se questo accade esci da dei parametri e vieni sanzionato. E questo è accaduto? È accaduto, non dimentichiamo che siamo sanzionati anche per altre ragioni, ultima queste di 100 milioni per quanto riguarda i rifiuti. E allora sì, è stato ed è gestito male e bisogna uscirne da questo pantano. Non credo che uscire da questo pantano sia uscire dall'Euro. Cioè tu non sei favorevole a quello che magari sostengono alcune altre forze politiche e dicono no, usciamocene dall'Euro. Usciamo se le cose stanno così, cioè per cui usciamo se rimane questa prepotenza della Germania, se rimane questa linea dura del 3% del fixed compact e soprattutto se non ci viene rilasciata la sovranità monetaria, perché non dimentichiamo che noi abbiamo perso la sovranità monetaria, per cui chi stampa moneta è la BCE e non abbiamo nessun potere. Stando così le cose però tu dici bisogna pensarci bene. Però c'è anche da dire che sì, stando così le cose conviene uscire, ma nel momento in cui esci non è che hai risolto un problema. Quindi rimaniamo in stand by, come dicono quelli che parlano bene. Abbiamo 15 secondi, posso solo chiedere che fai per le europee? Scendi nel lagone politico? Ci sto riflettendo, ci sto riflettendo perché sono contattata da forze che vedrebbero... Non voglio sapere di più, stai riflettendo. Sto riflettendo, ecco. Grazie a Maria Cristina Sandrin, leader di Donne per l'Italia, abbiamo parlato d'Europa. Rapidamente, bisogna riflettere, riflettiamo. Grazie.